Sono stati una serie di impegni importanti perché chiaramente ci si confronta, noi veniamo chiamati e questo ci inorgoglisce molto soprattutto per portare la testimonianza del Laboratorio Napoli, io vedo di verità procura una certa emozione partecipare a dibattiti fuori Napoli dove tante persone che operano in tutte le parti d'Italia riconoscono alla città di Napoli un presidio di resistenza, di attuazione dei valori costituzionali, di buona amministrazione, di politica all'avanguardia, tra i mille problemi chiaramente la nostra città viene apprezzato ancora di più il lavoro che siamo in grado di fare. Poi c'è l'occasione per fare un confronto con altre esperienze amministrative, con movimenti, con associazioni, comitati e anche con forze politiche che sempre di più ci chiamano a confrontarci. Ho in questo caso anche apprezzato l'invito alla festa nazionale dei giovani democratici a Portici perché è stato il modo per confrontarsi con un'area che non è la nostra area, con un partito che c'è sempre stato all'opposizione cercandoci anche dal volta di fareci un male gratuito, però sappiamo che in quel partito tra quelle componenti ci sono anche persone con cui si può tranquillamente dialogare, tra questi sono i giovani con i quali anche nei momenti più difficili nei rapporti tra PD e amministrazione napoletana non è mai mancato il dialogo. È chiaro che in queste settimane, in questi giorni, in questi periodi si discute se ci sono le condizioni per creare un'alternativa politica a questo governo e noi quando partecipiamo a questi dibattiti diciamo che siamo pronti alle sfide purché ci siano determinate condizioni. Certo le sfide non le puoi vincere con chi è il prodotto di Salvini, Presidente del Consiglio di Fatto del nostro Paese. Salvini non è venuto un momento all'improvviso, evidentemente ha costruito lui e l'ha costruito anche con merito dal suo punto di vista, però c'è anche chi ha totalmente fallito, quindi pensare di costruire alternative con chi ha tradito politicamente, con chi ha fallito per quanto ci guarda è impensabile. Se invece si tratta di mettere in campo coalizioni ampie, larghe, molto civiche, con chi in questi anni ha lottato, ha fatto dei diritti complessivamente, le sue battaglie principali, siamo i primi a ritenere che bisogna guardarsi attorno, bisogna confrontarsi e bisogna provare a mettere insieme una coalizione che abbia nella difesa e nell'attuazione della Costituzione il suo punto cardine di collante politico. Questo vale sia per le europee che per le regionali? Sono competizioni molto diverse, sulle europee fino a qualche tempo fa per aver risposto che non c'erano proprio le condizioni perché noi ci potessimo impegnare con una certa forza. Se si mette in campo un ragionamento importante, lo sapremo da qui a 30-40 giorni, noi ci saremo perché espira in Europa un vento brutto che non ci piace e quindi bisogna verificare da cittadini prima ancora che da politici se ci sono le condizioni per mettersi insieme in tanti. C'è un entusiasmo, chiaramente per noi c'è molta cautela perché abbiamo tanti impegni, abbiamo tante cose a cui pensare, le regionali è diverso, le regionali sicuramente si deve anche lì mettere in campo una coalizione e un ragionamento più ampio rispetto all'amministrazione della città di Napoli, è ovvio, ma le regionali mi sento di dire che noi ci saremo sicuramente.